Siamo a 10.000 metri Dunque, lei dicevo, mi devo operare perché guardi c'è un busto che mi impedisce di muovermi bene Quindi la soluzione è là, è là Lampante Lama ben È là, là, l'ho detto adesso, è là, là Oh, ma va proprio a rota libera Uno, uno, più Azione Sono Pericle Come stai? Io sono suo grandissimo amico, sono anche il suo ortopedico Come è sensibile, sto ragazzo, la capito, che non mi sono alzato, eh? Io parto per andare in Francia a fare causa al professore che mi ha operato E in questa avventura mi accompagna questa bellissima signorina Per fortuna Hai la voglia di fare un film con me, per fortuna Sia come mai, sta compriando, io lo so Proprio perché se l'è scritto Vincenzo è stata possibile questa storia d'amore, no? Perché, voglio dire, se fosse capitata in una storia qualsiasi, una coppia come la nostra sarebbe stata sufficiente per dare al film un target di fantascienza E invece, dato che Vincenzo, come si dice a Roma, se la canta e se la suona, se l'è scritta così Che sono lucida? No, un briaco Ho detto, mamma, quasi quasi esagero E ne metto due Io in questo film sarò l'amante di Bucci Rosso Beh, c'è un continuo tentativo di riuscire a fare l'amore fra Maria Grazia e, appunto, Bucci Rosso Tentano sempre, in continuazione, ma è impossibile 24, 5 prima Azione! Sali l'atto, sali l'atto, boom, manca va Trenne l'opera Va bene, molto carica, bravo Buonissima questa Poi, finalmente, quando riusciamo ad avere una suite nell'albergo dove, appunto, verrà mio marito e poi non vi racconto più niente Il signor Salemme ha un incontro con una donna splendida La signora Ferilli Il Bucci Rosso che ha addirittura un incontro con una donna splendida interpretata da la signora Arcuri Io ho un incontro con le zie Bambino, continuo a toccare le statuini e io ti spezzo le braccine Volevo dire, dunque, io, che sono la zia Beatrice e Massimo Ceccherini, che è la zia Natalizia Siamo due cugine proprietarie di un negozio di articoli sacri Mamma, mamma! Sei spaventato? Io ho dovuto anche imparare un po' la lingua Ehi, uè, iam, ehi, guaglio, ehi, il sud di Napoli, il gulfo di Napoli Oh, vabbà, iam, belle, belle iam E via via discorrendo Io sarò, col mio film, in diverse sale In queste multisale ci saranno i film americani e i film forti italiani Ora, una volta che avete riempito le sale Ma a capocosto, quelli che rimangono fuori Dice, stiamo qua, non siamo riusciti a entrare Ma andiamoci a vedere i film di Salenne Entrate, a ruota libera Jack di Massimo Ceccherini 22,6 seconda Azione Number 54 The house with the bamboo door Bamboo roof and bamboo walls They've even got a bamboo floor You must get to know Soho Joe He runs an espresso Called the house of bamboo It's made of sticks Sticks and bricks But you can get your kicks In the house of bamboo Stop!